Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi voglio portare avanti la mia rubrica sui libri e voglio iniziare proprio una rubrica sui Promessi Sposi, che appunto è il capolavoro di Alessandro Mangioni, famosissimo, è il libro forse più importante della nostra letteratura, dico secondo me ovviamente. Un libro che merita di essere riassunto capitolo per capitolo, che svela più di quanto possiamo pensare e soprattutto che sicuramente gli amanti dei libri devono andare a riprendere prima di andare a leggere i classici moderni. Cioè un vero amante dei libri non può non ripassare, non aver letto bene i Promessi Sposi. Questa è la mia opinione. Partiamo dal capitolo 1. Sul canale andrò avanti a portare tutto ciò che riguarda la mia vita e quindi anche quello che sto andando a ripassare. Per avere il tuo video personalizzato su riassunti di altri libri o altri argomenti, iscriviti al canale, lascia un commentino qui sotto e se ti va fammi sapere anche da che provincia stai guardando questo video. Iniziamo subito appunto col capitolo 1 dei Promessi Sposi. Io ho un libro che è veramente un pochino datato, era addirittura di mia madre e appunto penso che sia del 1960, ora non lo so, sicuramente voi se lo state studiando avrete dei libri un pochino più moderni di questo. Iniziamo subito. La prima cosa da sapere, soprattutto mi è venuto in mente anche se avete un testo, ora non lo so come funziona la scuola, in che scuole, se in tutte le scuole si studia o comunque, quello da tenere presente che inizia con quel ramo del lago di Como che volge a mezzogiorno. Parte sicuramente descrivendo prima il paesaggio, prima di arrivare sul personaggio, che il personaggio appunto di questo primo capitolo è sicuramente Don Abbondio che sta facendo la sua passeggiata. Il paese descritto nella prima parte del capitolo del libro è il paese di Brancciolo dove ovviamente abitano i Promessi Sposi, Renzo e Lucia, che sono i protagonisti principali del romanzo ma non di questo capitolo. Cioè che in questo capitolo appunto appare come primo personaggio Don Abbondio, i bravi e la perpetua. Scopriamo anche poi successivamente che il matrimonio di Renzo e di Lucia era stabilito per l'8 novembre 1628, quindi capiamo anche più o meno dove siamo collocati, ma che Don Rodrigo non è proprio d'accordo. Don Rodrigo chi è? È un signorotto locale molto importante e nessuno vorrebbe mai andare contro a Don Rodrigo. Infatti qua vediamo comparire la figura dei bravi che interrompono la passeggiata di Don Abbondio. Vediamo appunto il curato Don Abbondio che sta facendo una passeggiata verso casa come ogni sera, quindi percepiamo anche che in realtà è una persona abitudinaria che appunto sta facendo la sua passeggiata verso casa e vede queste due figure che aspettano qualcuno. Percepirà poi che appunto queste due figure stanno proprio aspettando lui. Ha diciamo mentalmente dei dubbi se fare il video front, guardare se ci sono altre vie, oppure accelerare il passo che poi è quello che farà di andare verso queste persone e alla fine arriverà ad incontrare questi due bravi. Chi sono i bravi? Diciamo che sono degli, tra virgolette, aiutanti di Don Rodrigo, quindi sono delle persone che non sono proprio buone e incontrano questo pauroso Don Abbondio. Ovviamente Don Abbondio, ed è forse una anche qui delle cose più famose che si ricordano, ha un breviario in mano e sta leggendo le sue preghiere e quindi alterna la lettura di queste preghiere poi ad alta voce e diciamo lo sguardo di sfuggita verso questi bravi per capire che cosa stanno facendo. Nota anche che questi uomini sono armati, hanno delle pistole e quindi lui è sempre più ansioso e accelera il passo verso di loro e scoprirà che cosa che il matrimonio di Renzo e Lucia non sa da fare. La famosissima frase oltre alla prima del capitolo. I bravi si assicurano se veramente lui ha intenzione di celebrare il matrimonio di due protagonisti appunto che sono Lucia Mondella e Renzo. Tra Manilino, lui dice di sì e qui i bravi appunto, oltre a dire che il matrimonio non sa da fare, danno degli indizi specifici, ovvero che nel caso in cui Don Abbondio provi a celebrare questo matrimonio oppure provi a confidare questa conversazione a qualcun altro, le cose non si metteranno poi così tanto bene. Quindi nonostante provi comunque a dire ma io sono un curato, devo comunque celebrare questo matrimonio, capisce e percepisce dalle frasi degli altri due bravi che c'è il rischio della sua pena di morte, tra virgolette, e quindi conviene non celebrare questo matrimonio. Anche Don Abbondio va verso casa sua pensando a che cosa potrebbe inventarsi con Renzo, come fare, cosa avrebbe potuto dire a questi bravi, ha mille dubbi. E da qui che arriva la figura della Perpetua, la Perpetua che è tra virgolette la serva di Don Abbondio, che è abituata a conoscerlo, che diciamo che ci sono anche due versioni, tra il perché non si è maritata, lei dice che non voleva nessuno ma invece tutti pensano che sa lei che non si è avuta da nessuno, comunque gli dà questo bicchiere di vino, Don Abbondio dice che non vuole cenare, lei ovviamente insiste nel sapere che cosa sia successo e al nome di Don Rodrigo anche la Perpetua non ha consigli ma solamente diciamo fa capire che la faccetta è molto ansiosa, non ha consigli da dare se non ha preoccupato ancora di più il nostro amico Don Abbondio. Comunque Don Abbondio fa giurare alla Perpetua di non parlarne con nessuno, la Perpetua prova a dare qualche consiglio un pochino così ma Don Abbondio lo vuole ascoltare, è giustamente molto impaguito e decide di coricarsi. Devo dire che avendo riletto il mio volontario non obbligata da un insegnante, mi sta piacendo molto. Devo dire che forse come me moltissime persone percepiscono tutto quello insegnato a scuola come una forzatura e quindi come una palla a volte, ma in realtà questo romanzo è davvero, veramente il più importante forse della nostra letteratura e quindi merita di essere letto come si deve, non perché è obbligato da qualcuno ma perché appunto, per avere un po' di cultura anche generale e letteraria. Sì, mi è piaciuto molto, continuerò a leggerlo, quindi iscriviti al canale per avere tutti gli altri capitoli riassunti e fammi sapere di che altro libro hai bisogno. Ti mando a me! Un grosso bacio e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!